Vi do giusto qualche informazione a riguardo. Il progetto Superficie è un progetto che ha l'obiettivo di parlare del mestiere dell'attore, con la particolarità di voler fare un focus su tutti quei professionisti del mondo dello spettacolo che lavorano indipendentemente dall'essere un nome. Cioè lavorano da anni, sono professionisti, hanno grandissime esperienze, hanno lavorato anche in molti progetti importanti, ma semplicemente non sono un nome, tra virgolette, come possono esserlo le grandi star del panorama italiano. Allora, con questo obiettivo di voler parlare di loro abbiamo iniziato a fare la cosa che più ci sembrava scontata, cioè quella di intervistarli. Abbiamo fatto queste interviste, forse qualcuno di voi ne ha vista qualcuna e ne usciranno altre, per chi non le avesse mai viste, insomma vi invito a cercare sui social delle nostre pagine che sono superficie sia su Facebook che su Instagram. In queste interviste abbiamo cercato di farci un po' raccontare sia la loro storia, la loro carriera, ma anche il loro punto di vista. Il punto di vista di cosa significa fare questo mestiere, soprattutto in un periodo così complicato. Diciamo che viviamo una realtà dove dare un nome alle cose è diventato veramente importante e quindi volevamo dare un nome a questa fascia di attori. Superficie perché? Perché è subito sotto le stelle ma è comunque sopra il sommerso. Oltre ad averne parlato con le interviste abbiamo pensato che forse era il caso di mettere in mostra quello che sanno fare meglio, cioè recitare. E da qui nasce l'idea del Superficie Live Show, una serata in cui vedremo su questo palco alcuni dei nostri artisti, poi speriamo ci saranno altre puntate in cui invitare tutti gli altri, e li vedremo esibirsi con dei pezzi che alcuni sono degli estratti di opere più grandi e importanti, e altri sono addirittura pezzi scritti esattamente per l'occasione. Saranno pezzi brevi, ci sarò io a presentare, vedremo degli estratti di queste interviste di cui vi parlavo, e poi dopo i pezzi avremo anche modo di parlare un po' con loro, e qui viene il vostro di ruolo, cioè godervi la serata, emozionarvi, ridere, immagino sarete o già spaparanzati sul divano oppure comunque a fine cena, ma potrete anche interagire con loro. Se vorrete fare delle domande domande, ci sarò io a leggere i vostri commenti, e lì dove ci dovesse essere qualche domanda pertinente, interessante, vi farò da mediatore per rivolgerle a loro. Detto ciò, io direi che è tutto, vi soffermerei giusto un secondo sul ringraziare, lo faremo anche dopo, questa realtà, questa struttura che è Officina Pasolini, che ci ha dato questa grande opportunità con uno staff che non ha da invidiare nulla alle altre realtà. e dovevamo farla in realtà quando è nata l'idea con il pubblico in sala, seppur distanziato, poi è uscito uno degli ultimi di PCM che ha chiuso i teatri, quindi ci ritroviamo a farla così, ma questo diciamo non è assolutamente un ripiegare, è far di necessità virtù, anzi è cominciare a sperimentare anche forme nuove, qui a noi non interessa che sia teatro, cinema o televisione, qui a noi interessa recitare, vivere questa passione e cercare il più possibile di trasmettervela. Detto ciò, buona visione. Bene, iniziamo, iniziamo dal primo artista. Attore della scuola romana, trasparenza e sensibilità i suoi punti di forza. Prima studia e poi insegna a teatro azione, collabora con personalità di spessore come Filippo Gili e in realtà del teatro indipendente come la compagnia Labbit. Ha preso parte alle prime web series di successo come The Peelze e Freaks. Tanta esperienza sia a teatro che davanti alla macchina da presa e spesso e volentieri notato da giurie di importanti concorsi sia come autore che come attore. È uno di quelli che quando recita trassuta passione anche nei puntini di sospensione. Signore e signori, ecco a voi Matteo Quinzi. Grazie. 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 C'è davanti uno che fuma, che fai? Gli elicite smette così, pure se lui non ti ha chiesto minimamente in parere? Sarebbe pure facile dirgli che io smetto quando te cominci a farti i cazzi di tua, però a me queste cose non mi piacciono. No, invece, mi piacerebbe dirgli, ma lo sai che si chiama dipendenza perché viene dal latino dependere, cioè pendere da qualcosa? È considerata una malattia? Non c'è scritto da nessuna parte che ha a cura un amico tuo che ti dice che devi smettere, anzi. Però pure questa sarebbe una discussione che prevederebbe almeno due sigarette. Poi potrebbe sembrare che lo stava apposta, è un cane che si è morta la coda. Perché io di base so così. Uno che se la discussione la puoi evitare, la evita volentieri. Lo diceva sempre pure Marina. Ma te ti rendi conto che ogni volta che c'è stata la discussione tu appassi la testa e tiri fuori quel cazzo a te d'appacco? Eh, è vero. È così. E più dicevo che aveva ragione, che era vero, più si incazzava. Allora io che facevo? Ben sentivo. Tiravo fuori il tabacco. Ma appena sopravvivenza della coppia, eh. Io ho pensato l'altro giorno a Marina, a Volochia, ma poi, diciamo, sta tendenza a farmi i cazzi di mia, mi ha salvato. Però io volevo dire che per la prima volta c'ero riuscito. Che per la prima volta, invece di tirar fuori il tabacco, avevo detto quello che pensavo veramente. anche se questo comportava una discussione lunga. E poi a me mi viene da dire perché a me la vita mi ha fatto sempre dire perché penso che sto Gesù Cristo dovesse proprio il contrario di quello che so io, cioè uno che andava sempre di discute. E l'altra sera alla sora gliel'ho detto, eh. Però è per questo che sei in dispettità. Ho capito. se può manco passare tutta la vita a tirare fuori il tabacco. E' per questo che sei in dispettità. Saranno sei mesi che venga a sta clinica. Ma non è che il suo Ragnese ci sta tutti i giorni, eh. Però due, tre volte a settimana in sei mesi l'avrò incontrata. E ogni volta, ogni santa volta che mi incontra senza manco salutarmi, mi fa... hai smesso? Ma poi con quel sorrisetto, con quella risata, fiocca, fiocca, come per non disturbare, come per essere per forza cortese. Sarò fatto male io, ma a me quel sorrisetto qua è risata finta il fatto che sicuramente non sa manco come mi chiamo. A me fa girare la capoccia. A me mi ci dispiace pure, però... Suor Ragnese, l'altro giorno, è incartato, ha incarnato tutti quelli a cui almeno una volta nella vita gli avrei avuto di... Fatte i cazzi tua! E' appena volta. E il tabacco me lo so tenuto in tasca. Io la smetto. Quando la smette pure lei, suor Ragnese? De fa che? Beh, fa lei. E de fa chi, suor Ragnese? Le dà una speranza pure a chi non la vuole? Solo perché la prima che ha perso la speranza è proprio lei. Ma non si è rotto i coglioni di sta farsa? Ma davvero ci crede? Quanto è che gira per stilettico, con questo sorrisetto sulle labbra, sempre gentile, sempre disponibile? Quanta gente ha visto morire qua dentro, suor Ragnese? E a quanti di questi gli ha detto che la preghiera l'avrebbe salvata? Quanti mariti, mogli, nipoti, ha salutato, ha abbracciato, senza manco conoscerli? Quanta gente sconosciuta ha dovuto consolare quando l'unica cosa che voleva fare era tornare a casa, lontano da ste stanze piene dei malati, lontano da ste stanze che puzzano de minestra, che puzzano d'arcol, via da sti vecchi che bestembiano giorno e notte per poi attaccarsi all'ultimo, una speranza in cui non hanno mai creduto solo perché ci hanno paura di morire. Ma lei, sta speranza che cerca le dà a ste persone, a sti poracci che vengono qua a far segnettare una roba, che sperano che li salverà, ma forse sarà l'unica cosa che li fa morire. Ma lei ci crede davvero? «Soragnè, allora, ti è scomparso il sorrisetto la prima volta che vedo che non ride, che è successo?» «Ma mica ci starà a pensare davvero a quello che gli dico?» «No, no, 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 no. E questo è solo lo sfogo di uno che non gli va a pregare. Mi ha guardato tre mesi di vita. Lei mi dice sempre di pregare, di pregare, di pregare che ci avrebbe pensato Dio, ecco, ma mettiamose qua, pregiamo insieme, assettamosi». e a sto Dio gli comunicamo che mi sono rimasti massimo tre mesi di vita. Vediamo un po' che dice. Magari ci dà pure un consiglio su come dire a Marina Epupi, hai visto mai? Io so che sono un cattivo cristiano perché non prego e perché non smetto l'epopo mua. Ma secondo lei io posso smetterlo adesso? Che manco più il senso di colpa da ammalarmi, c'ho. Adesso che mi è rimasta la cosa più bella della dipendenza, il piacere. Adesso che quando uno mi incontra per strada e mi vede che sto a girare una sigaretta e mi dice devi smettere, gli posso rispondere? Eh, ho fatto tardi. Ma so che lei mi odia in questo momento, ma io e lei siamo più simili da quello che crede. Ci pensi bene. È come se a lei, sul letto dei morti, gli chiedessero di smettere di credere in Dio. Lei che direbbe? Ah, Sor Agnè, un'altra cosa, scusi, una curiosità, ma secondo lei Gesù Cristo era fumatore? Matteo Quinzi! Matteo, allora è brutto sentire il silenzio dell'assenza degli applausi, ma ti assicuro che ce ne sarebbero stati tantissimi. Eh, speriamo, ma sì. Com'è? Come ci si sente in questa realtà diversa? Eh, insomma, ero molto emozionato, lo testimonia, insomma, il notevole all'appo che ho, perché... Quella è la sigaretta, forse. Quella è la sigaretta, forse. No, perché è veramente una cosa molto particolare. E comunque c'è l'emozione di ritornare in scena, ma c'è un meraviglioso ibrido, eh, perché è un meraviglioso ibrido fra cinema e teatro. Non c'è il pubblico, ma ci sono delle telecamere, quindi è molto bello, è molto emozionante. Per me sono entrato, insomma, molto emozionato. Il brividino che dicevi nell'intervista, te, è venuto. Senti, vogliamo dire anche, insomma, menzionare l'autore di questo pezzo. Assolutamente. Che non è l'autore solo di questo pezzo, ma anche di un altro che verrà dopo. Assolutamente, Simone Giacinti, che è un mio carissimo amico, è un ragazzo, un autore, che scrive delle cose veramente con un grande cuore, una grande sensibilità, sempre con un ribaltamento del significato, del, insomma, la parte oscura, diciamo, the dark side of the moon, insomma. La sa bene. Esatto. Grande Simone, lo salutiamo, sicuramente ci starà guardando. Io ti ringrazio, ti mando, diciamo, i ringraziamenti di tutto il pubblico, che sicuramente avrà apprezzato. Grazie, speriamo. Grazie a te. Matteo Quinzi. Ciao. Bene, noi andiamo avanti, andiamo avanti con la prossima artista, passiamo al genere femminile. Vi vado a presentare un'attrice dalla personalità forte e grintosa, ma spesso l'abbiamo vista anche in ruoli che richiedevano vulnerabilità e sensibilità. Per dirla volgarmente, diciamo che i teatri italiani l'esile è fatti quasi tutti. Ha collaborato con personaggi di grande spessore, come Renato Carpentieri, Ero Spagni, Tullio Solenghi, e preso parte a progetti di successo come Cus Cus Clan di Carrozzeri Arfeo e Gomorra la serie. Diciamo che per sintetizzare, potrei dire che per lei la recitazione va oltre la performance. Cioè, è una di quelle secchione che potrebbe farsi bastare lo studio del personaggio. Ecco a voi, Angela Ciaburri. Grazie. 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 Qualcuno ha detto qualcosa? Ah, Pier, sei stato tu? Hai detto qualcosa, ti ho sentito, hai detto qualcosa? Sì. Sì. Tu hai detto che vorresti fortemente che io chiedessi scusa a mia madre. E a me? Chi mi chiede scusa a me? Chi mi chiede scusa? Forse tu, Pier, che sei così avvezzo alle scuse, cosa guardi? Pensi di sviare, così di buttarle a ridere, di farci dire, mamma mia, guarda sto poveraccio con la moglie che gli fa le scenate isteriche davanti a tutti. No, no, dovresti vederti, hai la stessa faccia dei miei studenti del liceo quando li becco con la grammatica aperta sulle ginocchia e fanno finta di niente. O la formula matematica scritta bene a penna sul palmo della mano e gli occhi che dicono, no, no, prof, io veramente non so proprio di cosa stia parlando, vuoi negare? Vuoi negare tutte le schifezze che mi hai fatto? Beh, non lo so, potresti cominciare col dire, è vero Lili, è vero, scusami, è vero che ti ho chiesto di rinunciare alla tua tesi perché io potessi scrivere la mia, e che in effetti sì, ho ripreso le tue ricerche perché non mi sembrava valesse la pena passare gli stessi mesi che avevi passato tu in biblioteca, scusami Lili, perdonami. Sì, sì Lili, hai ragione, devo chiederti scusa perché all'inizio mi hai aiutato tantissimo, correggendo le bozze al posto mio ma non ti ho mai ringraziato per questo, scusami Lili, perdonami, perdonami. E' vero che ti ho chiesto io di avere dei bambini perché i bambini sono la cosa più bella che c'è al mondo ma non me ne occupo mai. Ah no, scusa, è vero, la sera quando mi va, allora ci gioco un quarto d'ora prima che vadano a letto, facciamo i diavoli a quattro e poi te li lascio iper-excitati, i fradici di sudore con la cartella da preparare, la favola della buonanotte da raccontare, l'orsacchiotto che chissà dov'è la pipì e tutto e vado a chiudermi nel mio studio perché sai, con i bambini va bene per cinque minuti ma poi non ha ancora finito l'articolo su Derrida che stavo leggendo, scusami Lili, perdonami, scusami, scusami, è vero che mi vergogno di te con la tua piccola cattedra nel tuo piccolo liceo di periferia e che mi metto un sacco di balle perché non voglio che i miei eminenti colleghi con i loro roboanti, titoli accademici, le loro cattedre di letteratura comparata e il loro disprezzo generalizzato per i comuni mortali ti incontrino da qualche parte perché sai non mi mette a mio agio, non mi dà la giusta luce questa moglie un po' ingrassata che ha messo su dieci chili sul culo da quando ha partorito il secondo che mi chiede scusa a me non tu evidentemente forse tu Vincent sarei tu alla fine a dirmi le parole che mi aspetto beh riconoscerai che te l'abbiamo fatta passare tutte da quando sei nato perché eri il cocco di mamma e papà che aveva sempre il diritto di andare male a scuola, alzarsi da tavola senza chiedere, rispondere, passare la notte fuori perché era così simpatico Vincent, così sveglio per la sua età e Dio mio quant'era carino col suo ciuffo ribelle e Dio mio quant'era simpatico col suo costume da cowboy, hai visto quanto è bravo a giocare a tennis, hai visto? è fantastico che piaccia così tanto alle ragazze, cocco di mamma sua deve essere così faticoso essere un piccolo playboy, non ti preoccupare Vincenzino, stai tranquillo sparecchia tua sorella al posto tuo, a lei piace giocare alla serva, stai tranquillo Vincenzino noi vegliamo su di te e tu puoi fare tutte le cagate che vuoi se hai scusato in partenza dico bene Vincent? sì? no? così così? bene molto bene diciamo che è una senata senza scuse ci saremmo sentiti molto meglio diversamente ma va bene così, almeno siamo pari bene io a questo punto io me ne vado me ne vado con la mia acrimonia, il mio disprezzo, il mio rancore me ne vado a letto per una volta vi lascio i piatti da fare Pier, già che sei sul divano, restaci, se i bambini piangono è per te io mi calo un paio di tavole e qualche birra e dormo un paio di giorni andate tutti a farvi fottere, buonanotte Angela Ciaburri vieni Angela brava allora? e allora è strano però è bello è un altro tipo di bellezza come abbiamo detto tu insomma di teatri ne hai frequentati, ne hai passati e sei diciamo una di quelle che stava in scena quando è successo il... non ne parliamo infatti prima con gli altri ne ne stavamo parlando e dicevamo che è veramente strano perché è tanto tempo ed è la prima volta che passa così tanto tempo tra una cosa e un'altra e a me è stato un trauma perché si è bloccato tutto improvvisamente e ho avuto anche difficoltà a dire al mio personaggio ok, chiudiamo tutto, ci vediamo, non so quando e quindi... mi è passato di tempo è stato dolorosissimo però mi sembra di capire che insomma un palco rimane un palco pur senza pubblico sì, il palco resta un palco e poi alla fine ci sono talmente tante persone che lavorano dietro che è bello anche farlo per loro perché in fondo eh, l'abbiamo fatta assieme questa cosa per cui lo dedico a loro Angela, tra l'altro è stata una delle prime a credere in questo progetto si può quasi dire insomma che che l'ho messo in piedi insieme a me e questo insomma io questo la ringrazierò sempre in maniera infinita perché fa sempre da prepiste capisce? lì dove fidarsi e dove far fidare gli altri e godendo insomma lì dove rompere le palle invece esattamente esattamente va bene Angela complimenti bravissima grazie buona serata alla prossima molto bene è un peccato non sentire insomma gli applausi ma io spero che voi da casa li stiate facendo insomma li riusciamo a sentire anche da lontano per cui fate la sta cosa strana di applaudire come dei pazzi dentro casa e io nel mentre vado a presentarvi il prossimo artista allora posso dirvi rispetto a questo attore che un suo collega lo ha definito un attore intelligente, abile, generoso e io personalmente aggiungerei versatile e poliedrico è un attore marchigiano ma è romano d'adozione inizia la carriera nel 2011 con lo spettacolo Mio Sangue di Lucilla Lupaioli poi fa diverse esperienze teatrali e cinematografiche che lo portano a girare Lella un cortometraggio di Michele Capuano che è vincitore di oltre 20 premi tra cui tre volte migliore attore e a fare lo spettacolo La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza di Alberto Fumagalli con cui vince il Fringe 2020 Signore e signori per voi Giacomo Bottoni Signore e signori per voi Signore e signori per voi Signore e signori per voi Zaniolo scarica dietro per Pellegrini Pellegrini cambia sulla sinistra per Spinazzola che avanza 1-2 con Mkhitaryan ancora Spinazzola tutto per Pedro Pedro che la dà a Zaniolo Zaniolo ne salta 1-2 3 avversari ancora Pedro che la mette in mezzo Dzeko, Dzeko, Dzeko Edil, Dzeko, 2 a 0 e la Roma la chiude a un minuto dalla fine. La Roma è campione d'Italia. Hai capito papà? La Roma è campione d'Italia. La Roma ha vinto 2 a 0 in casa dello Spezia ed è campione d'Italia. Sarebbe bello, eh? Cazzo se sarebbe bello. Dici, au, li abbiamo fatta, eh? Eh, lo so, ci avevamo messo quasi 20 anni. Però se ci pensi, le cose belle sono quelle che si aspettano, quelle che ci mettono tanto a venire. Sì, au, io sono arrivato 11 anni dopo di mio fratello e guarda quanto so bello. Sì, sì, dici, io e tua madre potevamo far meglio. Eh, lo so, c'è ragione. Ma ormai a 30 anni non conta più l'aspetto fisico, conta il carattere. È un po' come la storia dell'ascendente, no? Fino ai 30 anni conta il segno e dopo i 30 anni conta l'ascendente. A 20 anni conta l'aspetto fisico. E io ero bello, eh? Chiedavo forte. Cioè, quando c'era da essere bello, ero proprio bello. E ormai a 30 anni conta la testa, quello che c'hai dentro. E io dentro c'ho un sacco di cose belle, papà. Dici, che fai tu? Dici da solo. Sì, papà, modico da solo, non te sta bene. Ecco, allora, se non te sta bene te ne puoi pure andare, quella è la porta. No, papà. Scherzo. Non te ne andare, resta. Almeno nel sogno. Che tanto la Roma nuovo vince, ho scudetto. E io lo spero. Dici, come lo speri? Sei scemo? Sì, papà. Io lo spero. Sarò pure scemo. Ce li dico sempre questa storia con l'amici mia. Oh, ce si avvelenano. Stiamo sempre a litigare a Roma. Che poi a me sta cosa mi fa ride. Cioè, è un po' come le storie d'amore, no? Quelle belle. Si litiga. Ce si scontra. Io so pure capricorno. Ascendente a riede. Capirai, piano di corna. Paoletto ci si incazza sempre questa storia. Arriva pure a dimmi cose dure, tipo, sei un finto romanista, difisolo quando te pare. E se c'è una cosa che gli amici miei odiano è quando faccio finta di niente, quando non gli rispondo. Più faccio così, più loro esagerano, più loro esagerano e più sto zitto. Una volta Lorenzo mi ha preso da una parte, serio. Mi ricordo, era in Torino-Roma. Abbiamo vinto all'ultimo minuto con un golle pazzesco di Edin. E loro lo sanno quanto io voglio bene a Edin. Papà, arriva a sto pallone sul secondo palo. Edin si coordina e tira un missile bello da morire. Tutti esplodono. Pure Edin, che non riesce nemmeno a levarsi la maglietta per quanto è felice, mentre corre sotto lo spicchio dei tifosi nostri. Ma io... Niente. Cioè, esulto, eh. Dagli! Ma niente di più. Così Lorenzo a fine partita mi pica da parte in cucina, stavamo da Sandro, e mi fa... Ah, Daniele, io so preoccupato. Non te vedo felice, non te vedo contento. E se vede, manco più i golli di Edin, esulti. Ma che c'hai? Ti abbiamo fatto qualcosa? Abbiamo detto qualcosa di sbagliato? Diccelo, perché noi ci soffrimo. Paoletto, sì, esagera, però lo fa per spronate, per farti reagire. Dice quello che c'hai, così noi ti potremo aiutare. Basta che ce lo permetti. E io te giuro, papà, che quella sera vi volevo rispondere, perché c'aveva l'occhio gonfio, e a me vedeva un amico che sta così, mi fa male. Ma che gli dovevo dire? Che gli dicevo, papà? Niente. Perché per fortuna non lo possono capire. Ma no, allora, tranquillo, grazie, eh, ma c'ho solo un po' dei problemi al lavoro. Dici che ho fatto bene? Meno male. Sarò scemo, papà, però se mi dici che ho fatto bene, mi fai felice. Mi manca un po' d'approvazione, un gesto con la testa, senza troppe parole. Perché non lo possono capire. Tu dici bene che gli amici capiscono tutto e capirebbero, ma fidate. Che se non lo provi, non lo puoi capire. Che ti pare che non vorrei esultare quando Edin la spacca dentro la porta, eh? E quando Daniele ha fatto quel gol all'ultimo con Genova, o però ti ha segnato all'ultima del capitano? Che ti pare che non vorrei spaccare tutto e urlar forte come facevo una volta con te? Io lo faccio. Ogni volta che lo faccio ho una mano che mi stringe qua, sullo stomaco, che più esulta e più mi stringe, è quella vocetta che mi ricorda che per me la Roma eri te. E che a ogni gioia mia mi manca un pezzo. Mi mancano l'occhio tuo. Quel sorrisetto compiaciuto da padre soddisfatto quando facevo qualcosa di buono. La sciarpetta. I gesti scaramantici. La braccia. E racconti sul comandor tra. Non lo possono capire, papà. Gli amici miei sono buoni, eh? Ma non lo possono capire. E sì. Sarebbe bello. Ma la Roma non deve vincere lo scudetto. Perché non ti potrei abbracciare. Sarebbe una gioia a metà. Ah, papà. Fammo cap per questo che sto a vent'anni che non vincevo. Giacomo Bottoni. Vieni, Jack, vieni. Buonasera. Buonasera a lei, caro. Allora, come stai? Tutto bene, tutto bene. Anche questo pezzo di? Simone Giacinti. Simone Giacinti. Simone Giacinti praticamente ci ha spoltato la serata. Assolutamente. Infatti non finirò mai di dire grazie a Simone perché mi ha regalato questo pezzo che noi, cioè che un po' ci rappresenta. Cioè rappresenta la nostra amicizia e l'amore per la Roma. Certo, certo. Lo capisco. Come ci si sente? L'ho chiesto a tutti, lo chiedo anche a te. E' strano, strano nel senso che manca quella sorta di sottofondo del pubblico, però comunque il palco è sempre il palco, perciò è sempre bello stare qui sopra. Certo, certo. Tra l'altro Jack, insomma, ne abbiamo parlato prima per chi ha visto l'intervista e insomma chi ha ascoltato la mia presentazione. Tu, diciamo, prima abbiamo parlato con Angela, dicevamo che aveva una tournée che è stata interrotta. A te è capitata un'altra cosa bella, sempre a livello teatrale, arrivata nel momento meno azzeccato di tu. Sbagliato proprio, è proprio il momento per proprio non doveva succedere. Cosa è successo? Diccelo. È che abbiamo vinto il Fringe 2020 con la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza e oltre a quello che abbiamo vinto siamo stati presi da una produzione e stavamo organizzando un bellissimo tour. Però adesso siamo così, ma lo faremo, lo faremo. Ok, adesso si va avanti, diciamo, self-tape e diretta e streaming. Senti Jack, ne abbiamo parlato prima, io ci terrei a farlo uscire anche adesso, perché dovete sapere, chi ha visto l'intervista già lo sa, dovete sapere che Giacomo, oltre ad essere appunto un grande attore, l'abbiamo detto prima, poliedrico, intelligente. È deficiente. È anche deficiente, è abbastanza bastardo direi, no? Quindi diciamo, quando ci siamo, ci conosciamo, ma quando abbiamo parlato durante l'intervista chiedendo un po' la sua storia è uscito fuori che è il bastardo che fa gli scherzi durante le repliche. Sì, non lo faccio da tanto tempo, qui ero ancora giovane, ormai sono passati i 30 anni e conta l'ascendente, conta la testa, come dice Simone, no? Ok, però c'è questo epico in cui praticamente, dillo tu, insomma, te lo faccio raccontare a te. Allora, io facevo questo personaggio che a un certo punto doveva portare una busta che conteneva delle foto ed era un momento molto drammatico. E le prime due sere, faccio il bravo, alla terza sera decido di mettere un'altra foto per quel momento drammatico. E la foto è quella del matrimonio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Ecco, apposta. Adesso che sei in diretta streaming vuoi finalmente chiedere scusa alla vittima? Chiedo scusa, chiedo scusa. Chiedo vera. Va bene Giacomo, grazie. Grazie. Grazie, bravissimo. Grazie. Grazie mille. Allora, andiamo avanti. Ritorniamo, per nostra, diciamo, fortuna, al genere femminile. Cerchiamo un po' di alternare. E tra l'altro è una casualità, ma abbiamo praticamente due attori, un attore e poi un'attrice provenienti dalle marche. E insomma, questa cosa mi ha fatto riflettere per nessun motivo in particolare in realtà. Ma presentiamo la prossima attrice, appunto. E allora, nel cercare di riassumerla in poche parole, diciamo, quello che è uscito è che dignità, collaborazione e consapevolezza sono i diktat della prossima attrice. Come vi dicevo, Marchigiana è fiero di esserlo. Ha una verve comica innata, ma come spesso accade, gli attori che sanno far ridere sono i migliori nel genere drammatico. Scuola del Teatro Stabile di Genova, grandi maestri come Valerio Binasco e Solinas, e una compagnia teatrale a carico, in numeri 11, di cui è fondatrice. Spesso coinvolta in progetti anche in qualità di regista, è dotata anche di una grande creatività e di una grande attenzione al sociale e all'attualità. Anche sul set, se è il fatto suo, al cinema in televisione ha preso parte a serie tv di successo e film importanti, come per ultimo 18 regali di Francesco Amato. E allora accogliamo sul parco, dopo aver visto l'estratto della sua intervista, Valentina Illuminati. Grazie. 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 Io non ho voglia di essere divertente. Tac, ho spezzato il cuore. Io lo so che avete pagato anche bene per essere qui con noi stasera seduti comodamente da casa, ma io non ho voglia di essere divertente. E vi chiedo scusa, io mi sono anche preparata, io ho raccolto tutto il mio materiale, io mi sono assicurata proprio di essere pronta per essere questa stupida ragazza comica, tanto caruccia, tanto caruccia, tanto caruccia, camate tutti, però io stasera non ho voglia di essere divertente. Quindi se qualcuno dell'organizzazione, non lo so, se qualche collega che ha già fatto, non so se Alessandro, se potete un attimo venirmi ad aiutare, anche Matteo. Perché io non so come uscire da questa situazione, perché io non so come uscire da questa situazione imbarazzante di streaming, quindi io rischio di rimanere qui imbalsamata. Sono seria. Sono seria. Sto dicendo seriamente, non sto scherzando, Matteo sto dicendo seriamente, io non voglio fare il pezzo stasera. No, qua non respira più nessuno veramente, io per favore non voglio essere divertente, se qualcuno mi può portare via, grazie. Non sono pazza, non sono pazza, non sono pazza, anzi sono pazza, facciamo così, sono pazza. Io sono pazza, tanto io sono la ragazza divertente, giusto? Io sono la vecchia, perché sono anche vecchia tra un po', ragazza divertente. Quindi sono la ragazza divertente, io posso essere anche pazza, tanto sono la ragazza divertente, giusto? Sono io la ragazza divertente, tanto che problema, cioè io lo posso sopportare perché io posso continuare a inventare sempre nuovo materiale, io posso continuare a sfornare battute, pa, 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 così, sempre nuovo materiale. Io posso continuare ad essere la ragazza divertente nella vita ed anche sul palco, certo, perché cosa? Perché? Perché? Per chi? Per chi? Perché io devo essere la ragazza divertente per voi? Ma io non vi conosco, voi non conoscete me, io perché devo essere la ragazza divertente per voi? Ah, certo, voi, certo, certo, voi direte, vabbè ma tu sei una comica, devi essere divertente. Sto per darvi una notizia sensazionale. Io sono una ragazza normale. Una ragazza normale come tutti voi. Io sono una ragazza normale, una normale Jenny, Claudia, Alessia, una ragazza normale che è anche divertente. Sensazionale, eh? Ma voi avete una vaga idea di quanto sia difficile inventare sempre il nuovo materiale? Voi avete una vaga idea di quanto sia difficile avere sempre la battuta pronta? Voi avete una vaghissima idea di quanto sia difficile essere una ragazza divertente? No, voi non lo potete sapere. Eh no, perché l'unica cosa che dovete fare voi è... No, voi non lo potete sapere apparire. Sapete, voi, di come faccio io a essere divertente anche quando sono dannatamente infelice. Giusto, giusto, c'è quella vecchia storia, quella che dice che è vero, no, questo è vero, i migliori comici hanno le vite peggiori. Cazzate! Io non ci voglio credere a questa storia piena di filosofia spicciola di cui a me non me ne frega niente. Perché adesso voi mi dovete spiegare, perché io, per far ridere voi, devo avere una vita di merda. Fottetevi tutti. Valentina Illuminati, eccola qua, col suo bellissimo pigiama. Che abbiamo scoperto prima significa contare le pecore, sono i numeri e le pecore. Beh, outfit ideale per ragazza figa e divertente 2020 direi. Quindi divertente, esatto. Allora, Vale, come stai? Bene. Ci siamo tolti sto peso. Ti odio di meno. Mi odi di meno. Dicevamo con Valentina oggi che mi odiava, ma le dicevo che poi ci saremmo mati, ma non è andata così evidentemente. Senti, l'ho detto prima nella presentazione, tu sei una di quelle professioniste che ha fatto anche il passo di mettersi in proprio, di fondare una compagnia, e possiamo dire una compagnia che dura da quanti anni? Cinque. Eh, quindi non pochi. Una di quelle professioniste genio. Genio, che non sa come incasinarsi la vita. Com'è fondare una compagnia? Al di là del periodo e ovviamente le difficoltà del momento. È difficile, però è anche una grande forza, perché non si è soli, non si è mai nel vuoto. Quindi è vero che nel nostro mestiere si dipende proprio dalla scelta di qualcun altro, avendo una propria associazione. Anche se poi, anche lì si dipende, per la distribuzione, poi potrai cominciare a fare della politica, ma non la faccio. È sbagliata la domanda. Esatto. Sì, in realtà non si è mai la sensazione di cadere nel vuoto, quindi hai sempre la speranza, l'ottica di poter fare, di ricostruire. Bello. Poi tu nell'intervista, adesso mi sembra fosse anche nell'estratto che abbiamo mandato, dicevi che appunto la collaborazione frattori non è scontata, ma quando avviene è speciale. Sì. Penso che forse ti riferissi anche a questa esperienza dei numeri undici. Assolutamente, e poi al significato in realtà del numero undici, che è un numero primo composto, ed è una cosa in cui io credo tantissimo. Cioè quando due persone, due unità insieme formano qualcosa di più grande, che è una squadra, che è un numero composto. Ok, perfetto. Grazie mille, Valentina Illuminati. Grazie a voi, grazie. Allora, rispondo ad una domanda di Francesco Pastrulli, che ci dice, attori interessanti, grazie. Quando sarà la prossima puntata? La prossima puntata sarà a gennaio. Adesso dovrebbe essere intorno al 12 gennaio, ovviamente non mancheremo di aggiornare tutti i canali di comunicazione, per far sì di avervi a bordo anche la prossima volta. Noi siamo arrivati all'ultimo artista, spero vi dispiaccia che sia l'ultimo, ma spero comunque che siate felici di aver scelto di stare con noi questa sera. Allora, l'ultimo artista è, visto che abbiamo menzionato le zone, abbiamo detto che siamo passati un po' nelle marche, perché vi dico che questo invece è un bolognese, bolognese vero, dalla nascita. E tra l'altro è uno di quelli che le idee ce le ha avute chiare sin da subito, al punto che ci ha raccontato che da bambino scrisse una lettera a Pupi Avati a Natale, chiedendo di far parte del cast di un suo film dell'epoca. Poi ha raccontato che, insomma, gli rispose anche Pupi Avati, giustificando il fatto che il cast fosse al completo. Viene dalla realtà del Teatro 2 di Parma ed ha avuto l'onore di collaborare tra gli altri con Tim Stark, Valerio Binasco e Flavio Migliaccio. E non è solo un attore, ma anche un autore, come nel caso del suo primo monologo, di cui stasera ci farà ascoltare un estratto. Premiato con lo stesso al Festival della Risata di Lucca e al Comic-Off di Roma, vediamo sul palco, e prima nell'intervista, Claudio Losabio. Grazie. Grazie. Quanto costa una parola? Che peso ha? Si può vendere col cuore? I like it! Ma che cazzo? Ogni cosa ha un suo prezzo, anche l'amore ha un suo costo. Cento like davanti, mille followers dietro, bello. Quanto costa un cuore, un sorriso, un like? Quanto ci costa? Smile. Che valore hanno? Heart. 75 like valgono meno di mille? Ma soprattutto, quanti like ci vogliono per raggiungere un cuore? Quanti like ci vogliono per raggiungere il cuore? I like it! Ma che cazzo? Sono tempi confusi, sono tempi difficili, condivisi, virtuali, cliccati, commentati. Ma lo soluzioni ci sono, le abbiamo dietro l'angolo, le abbiamo a portata di mano, abbiamo dei problemi, ma ci sono. Nell'epoca dei social e del narcisismo malato, nell'epoca del salviamo tutto, anche lo streptococco di siamo fatti così perché ha una faccia buffa, ma non guardiamo mai in faccia nessuno. Nell'epoca di finalmente possiamo comunicare con gli alieni, ma non abbiamo ancora, capito, come comunicare con il nostro partner. C'è sempre una soluzione, c'è sempre una cura. Ci vogliono e ci vogliamo malati, ma le soluzioni ci sono. Hai tre lauree e ancora non hai trovato lavoro? Fai un master. Fai un master e ancora non hai trovato lavoro? Fai un master due. Ancora niente? Concentrati su te stesso. Raccogli le tue energie. Fai una vita sana. E diventa vegano. Vegano, vegano, vegano. Fa bene essere vegani. Vegano, vegano. La soia aiuta. Soia, soia. Soia, vegano, soia, vegano. La soia cura l'anima. Ed è polifunzionale. Ci fai di tutto con la soia. Ci fai... Gli spaghetti di soia, l'olio di soia, l'acido di soia, gli hamburger di soia, le tagliatelle a ragù di soia. Puoi risottare con la soia, lo puoi usare come olio di un motore. E mi è arrivata una soffiata che in qualche chiesa protestante, durante la cresima, il prete, al posto del sangue di Cristo, usa la soia! Fa bene la soia. Fa bene essere vegani. Sei diventato vegano, ma ti sogni ancora la mortadella che mangiavi da ragazzino? E, oh, e, oh, un giorno fa? Quella vera. Quella senza pistacchio. Vai dallo psicoterapeuta. Vai dallo psicoterapeuta e lo psicoterapeuta, dopo un anno di analisi, va in crisi perché Jung non ha mai nominato la mortadella senza pistacchio nei suoi trattati. Quindi diventa vegano anche lui. Quindi l'hai convertito e naturalmente non ti fidi più di lui. Diventa buddista. Finalmente hai trovato il lavoro, il tuo lavoro, o quasi, grazie al buddismo, perché hai focalizzato i tuoi obiettivi. Lavori 12 ore al giorno, guadagni soldi, hai un partner che ora ti stima, ma non hai più tempo per te stesso, neanche per il tuo partner, neanche per praticare. Torni immediatamente a mangiare la mortadella di nascosto e ti senti in colpa. Entri in una crisi di coscienza perché ti rendi conto che il buddismo non è fatto per tutti, perché i sordomuti non possono cantare Inizia a fare volontariato per espiare le tue colpe ed entri in una crisi di spersonalizzazione perché ti rendi conto che dopo tre lauree, due master, dopo aver imparato il linguaggio dei sordomuti, realizzi che hai ancora problemi col congiuntivo. Abbandoni qualsiasi tipo di credo perché io so io e la penso come cazzo, mi pare, perché al mondo è tutto soggettivo e relativo e se io sarei... In fondo non è un gran problema. Inizia a scrivere un romanzo sulla tua vita personale piena di conflitti intitolato Io tra la mortadella e la soia, sottotitolo, mi sento pistacchio. E dopo che hai pagato per pubblicare il tuo capolavoro, pensi che io abbia potuto diventare famoso ed avere successo? A tutto c'è una soluzione. A tutto. I like it! Claudio Lo Savio! E lo richiamiamo qui sul palco insieme agli altri attori. E quindi abbiamo Matteo Quinzi. Veloce, veloce, Matteo Quinzi, Angela Ciappurri, Claudio Lo Savio, mi raccomando le distanze ragazzi. Valentina Illuminati e Giacomo Bottoni. Un grande applauso, ve lo faccio io. Bravissimi ragazzi, grazie mille, grazie, grazie, grazie. E grazie anche a voi, grazie di averci seguito. Ho risposto prima a una domanda dicendo la prossima puntata dovrebbe essere il 12 gennaio, ma seguite i nostri social per saperlo meglio e con più precisione. E ne approfitto per ringraziare anche tutto lo staff di Officina Pasolini. Una realtà veramente, veramente figa, fatta di gente figa e con un'organizzazione da paura. Noi ce ne andiamo, ce ne andiamo a dormire, vi auguriamo la buonanotte e vi ringraziamo di essere stati con noi. Viva la superficie, grazie. Noi ce ne andiamo, ce ne andiamo a dormire, vi auguriamo la buonanotte e vi ringraziamo di essere stati con noi.